Ciao a Borno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Sporting Lisbona Juventus 1-1 Partita che si è conclusa 5 minuti fa La Juve ha paleggiato 1-1 Dopo essere andati in disinvantaggio 1-0 Sta partita l'ho vista All'inizio abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo Lui Patrice gli do credito perché ha giocato una partita E ha saputo tenere la Juve in difficoltà Ha fatto certe parate Non credevo ai miei occhi Addirittura mi arrabbiavo Non credevo a quello che succediva Poi ovviamente Cesar porta in vantaggio il Sporting Lisbona E la si complica di più Arriviamo al secondo tempo Iguain fa 1-1 Grazie a Iguain che abbiamo ancora una possibilità di restare nella Champions Ma grazie a Iguain Perché se Iguain non segnava e ci faceva un punto Ora mi pare che il Barcellona ha pareggiato Mi pare che non ha vinto Ma se Iguain non segnava Adesso la Juve era terza Si perdevamo Eravamo terzi E avevamo nessuna possibilità di passare Speriamo che siamo tipo secondi Perché non ho visto il gruppo Perché sto qua e ci sta nel video Però Patricio è il mio uomo partita Ha fatto delle parate bellissime Si merita il mio Trofeo uomo partita Cioè la Juve poteva vincere Stasera Però Lo Sporting Lisbona ci ha Ci ha messo in difficoltà Ci ha messo in difficoltà E quando cerchiamo ad andare per il pallone Non l'abbiamo potuto fare Quindi lasciate qui giù Cosa pensate di questa partita Io penso che è stata una partita dura Diverse da Torino Ma Penso che Possiamo passare il turno Comunque c'è un bel mi piace questo video E ciao